A Nicoletti di Riccioni scatta il big match di giornata che vede due sorprese ma non troppo di questo campionato ben posizionata nei piani alti di classifica che si sfidano per centrare entrambi i tre punti nomi di spicco da una parte e dall'altra come quelli di Docente, Gadda e Domini veniamo alle immagini del match a cura di Paolo Arcangeli, Marignanese subito avanti con questo tiro cross broccato in due tempi da Passaniti la Fiericione replica con questo tiro dalla distanza che Azzolini controlla a dovere ma la partita è piacevole, il sartore è il tempo di alzare la testa e trovare Domini che di testa non incide come vorrebbe mentre dall'altra parte il tentativo di Cangini risulta fuori misura Cecchetti spinge sul versante opposto, il suo traversone trova la testa di Docente che manda al lato è la volta di Borghini, traversone pericoloso non raccolto da nessuno dei compagni ma sul più bello, da parte della Fiericione la Marignanese dall'altra parte passa il traversone di Rivi viene intercettato da una mano galeotta in area di rigore l'arbitro non ha incitazioni, assegna i pennati che Domini trasforma e festeggia a suo modo per l'1-0 della Marignanese la Fiericione non rimane a guardare, il colpo di testa di Borghini termina al lato ma il gol è solo rimandato, il traversone di Borghini provoca l'involontario autorete di Ferrari che ristabilisce la parità in campo, 1-1 il parziale e felicità immensa per la Fiericione che perviene dunque al pareggio le squadre vanno a riposo solo 1-1 non ha ripreso lo stesso Borghini, il migliore dei suoi serve ad alberiggio un pallone d'oro il numero 4 spreca clamorosamente è la volta di Stella che calcia alle stelle utilizzando il proprio cognome il colpo di testa di Sartori invece non punge più pericoloso intentativo a corsa dalla distanza proprio dal numero 7 ma Passaniti si fa trovare pronto lo stesso Sartori appoggia il pallone per Tossani che da poco entrato calcia malamente finale ancora di marca rossa Sartori di testa manda al lato mentre l'ultimo arrivato Sov da poco entrato si fa espellere per un palo di reazione su Anastasi sotto gli occhi del diretto di gara e per placare la sua ira dopo l'allontanamento da terreno di gioco ci vuole San Simone Lilli, nuovo apostolo di San Giovanni Marignano Sov si calma, si recca sotto la doccia con il diretto di gara che poco dopo decrita la fine del match Marignanese e Fiericione si dividono l'intera posta in paio